Giornata mondiale delle persone disabili, abbattere le barriere e garantire i loro diritti, dice il Presidente della Repubblica, Mattarella. In Italia sono 4 milioni e mezzo. Carlotta Mano. Dalla nascita, quando ti dicono che tua figlia ha la sindrome di Down, ti viene un po' di paura. Poi quando mi hanno detto che avrà questi problemi, camminerà dopo, parlerà dopo, un po' di paura l'ho avuta. Sono passati 35 anni da quel giorno ad oggi, 35 anni di vita insieme a Sonia, anni difficili di grande coraggio, di sfide giornaliere. A guidare Anna Maria è stato sempre l'amore per sua figlia. Facciamo due passi? Facciamo due passi. Sonia ha studiato e cresciuta. Oggi ha una vita indipendente, condivide una casa con un'altra ragazza con la sindrome di Down e progetta il suo futuro. Ho un fidanzato io, si chiama Marco, l'ho conosciuto al teatro. Le soddisfazioni nella sua vita non sono mancate, la più grande ci racconta a maggio scorso, quando è stata testimonia di un catalogo di moda dedicato alle spose. Il vestito da sposa era il mio sogno. Sogni nel cassetto ne ha tanti, ma uno soprattutto, il ballo. Nel ballo ce l'ho nel sangue io. Io non mano mai il ballo, perché io mi sento come una piuma che vuole.